Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro serale, pre-serale, non so, dipende dal grado di Torinesità, che questa sera sarà dedicato alle pluralità religiose e le dinamiche di oggi, però partendo dalle conquiste arabe, arrivando fino al mondo islamico e questo incontro è molto promettente perché abbiamo la fortuna di avere qui alla mia destra il professor Tottoli, che è rettore dell'Università Orientale di Napoli, socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei e della nostra Accademia delle Scienze di Torino, grande specialista di, insegnava, non so adesso, islamistica, ma non so se si dice ancora islamista o si dice islamologa adesso, forse, grande islamologo che ha scritto molti testi, ricordo quello sui profetti biblici nell'islam, ha anche una cosa che io ammiro molto, grande traduttore e se posso dire siccome io sono una specialista di diritto ho ammirato. La traduzione del Mu'atta di Malik, opera complessissima di diritto islamico, ma soprattutto penso che al pubblico sia conosciuto, al grande pubblico sia conosciuto per i suoi contributi, articoli che vengono pubblicati sul Corriere della Sera e Domenico Quirico non ha bisogno di presentazioni, giornalista, capo servizio esteri, inviato di, mille anni fa, inviato di guerra, da cui abbiamo letto direi una copertura molto ampia dei temi che più ci travagliano che ha vissuto direttamente, io mi limito alle cose più pertinenti per questa serata, naturalmente la copertura delle primavere arabe, il califato, anche le migrazioni dall'Africa, la guerra attuale e soprattutto la vocazione del giornalismo a portare i fatti e l'effetto che questo esercizio così essenziale per la democrazia ha o ha difficoltà ad avere oggi, insomma. Quindi abbiamo tutti letto molto e il tema di oggi è straordinariamente complesso e esteso perché ci proponiamo di coprire 1500 anni. Quindi se guardiamo all'Islam siamo stati invitati a guardare in particolare al vicino oriente, queste ho scusato guardato perché non si sa mai qual è il termine usato, medio, vicino. Ci avevano detto a un certo punto allo shamma, cioè a sinistra, agli arabi dalla penisola araba partono per le loro conquiste e hanno la destra, lo Yemen, e la sinistra che è tutta la grande provincia siriana insomma che ben conosciamo. Quindi quella è la storia araba, però se vogliamo vedere la pluralità religiosa in quel mondo possiamo partire da ben prima, se pensiamo ai cristiani, insomma c'erano già i cristiani da 600 anni ma in Iraq gli ebrei c'erano da 1200 anni e quindi insomma è una pluralità religiosa estremamente complessa il cui destini attuali guarderemo proprio oggi che invece è quasi l'Europa a diventare più complessa religiosamente di quanto sia stato in passato. Io passerei la parola al professor Roberto Tottoli per iniziare, come dire, cronologicamente. Grazie, dobbiamo spiegare in poco tempo non solo 1500 anni di storia ma anche come declinare la questione dalle pluralità religiose e le dinamiche di oggi. Prima di tuffarci quello che proporrei al periodo delle origini io prenderei un punto a metà del ventesimo secolo, la fine della seconda guerra mondiale, l'olocausto che trova le due sponde del Mediterraneo in una situazione diversa che sarà poi molto diversa dalla situazione di oggi. L'olocausto in qualche modo viene eliminata la grande minoranza religiosa etnica in Europa e il mondo islamico dall'altra parte del Mediterraneo, un mondo in cui ci sono significative minoranze cristiane. Prima della nascita di Israele ovunque ci sono ebrei. Pensate che prima della nascita dello Stato di Israele a Baghdad un terzo della popolazione era fatta da ebrei molto attivi, parlanti arabo eccetera. Dopo la seconda guerra mondiale il panorama cambia completamente. Il mondo islamico e poi dopo quando arriveremo alle dinamiche di oggi conosce la scomparsa delle minoranze ebraiche, l'erosione delle comunità cristiane e l'Europa inizia una fase completamente nuova. La realtà italiana ne è un esempio, è un mercato plurale religioso fatto non solo di varie forme di cristianesimo nella maggioranza cattolica ma anche di musulmani, di ortodossi. Insomma la situazione è cambiata. Torniamo però indietro e partiamo dall'inizio come suggeriva Barbara, ovvero come è arrivato il mondo islamico a quella pluralità che proprio dalla metà del ventesimo secolo è andata in un'erosione. È arrivata attraverso una storia che è segnata da alcuni passi significativi che vale la pena di ricordare. Quando il profeta Momento, fondatore dell'Islam, muore nel 632 d.C., unifica l'Arabia, la penisola araba e solo dopo la sua morte, ma già proprio prima di morire aveva comunque addombrato l'idea di un'espansione verso nord, il neonato impero regno musulmano inizia quella vorticosa cavalcata delle conquiste che in poche generazioni portano i musulmani verso la Spagna, verso l'Asia centrale, verso l'Iran eccetera, portando che cosa? La loro etnia, la loro lingua araba e portando anche questa nuova religione che in realtà con gli occhi di oggi e la letteratura successiva conosciamo dal testo del Corano, conosciamo da testimonianze magari più tardi, ma ad una connotazione come dire non chiarissima per lo storico che indaga. Però entrano in paesi con contingenti abbastanza ridotti, quindi entrano in realtà dalla storia culturale e religiosa molto complessa e ricca. Arrivano in Siria e in Mesopotamia dove ci sono chiese cristiane in competizione tra loro, tanto è vero che la competizione confessionale cristiana viene vista anche come una delle ragioni del successo musulmano che entra in qualche modo e mette fine a rivalità a volte sanguinose a colpi di concili e di dibattiti e di frantumazioni varie. Entra anche dove vi sono comunità ebraiche oppure arriva in Iran dove vi sono masdeismo, tradizioni religiose diverse e comincia a toccare anche l'India, un altro continente di religiosità immense. Come vi entrano i musulmani e perché hanno successo? Perché sicuramente all'inizio in qualche modo entrano con contingenti ridotti affermando la centralità del ruolo dell'autorità musulmana ma non imponendo conversioni e chiedendo solo in qualche modo la corrisponsione di un pagamento di tasse eccetera. Come sostiene qualcuno? Liberando anche il mercato religioso non inducendo nessuno a convertirsi. Anzi, nel primo secolo si hanno addirittura indicazioni di qualche califo, i successori di momento, che addirittura vedevano di malocchio le conversioni all'Islam proprio perché toglievano una parte della tassazione rivolta ai non musulmani. Quindi la società islamica delle origini nasce come una società ecumenica anche che accetta le minoranze religiose al proprio interno, attenzione, ma in uno stato di tolleranza con alcune regole precise che devono indicare il primato della componente musulmana, al cui interno possono stare quelle religioni che credono in un unico Dio e danno un libro sacro. Poi, come sempre, i principi a volte devono diventare duttili davanti alla realtà e quando i musulmani arriveranno in India e troveranno i culti induisti sprettamente pagani, troveranno il sistema di adattarsi e quindi accettare una realtà come quella indiana in cui i musulmani non saranno mai maggioranza. Quindi, come varie interpretazioni storiche eccetera, agli inizi la società musulmana e la società ecumenica chi accetta la diversità religiosa, non promuovendo la conversione forzata. In molti dei paesi oggi a maggioranza assoluta musulmana si calcola che i musulmani dall'Egitto alla Siria alla regione mesopotamica divennero maggioranza relativa solo verso l'anno 1000, undicesimo secolo, quindi tre o quattro secoli dopo le conquiste. Vuol dire che allora le maggioranze erano ancora cristiane ed ebree eccetera. Ovviamente la presenza di potere dell'impero musulmano del tempo fungeva da forte e attrattiva. Ne va dimenticato che probabilmente in misura minore comunque vi erano momenti di ristrettezza e problemi confessionali, magari di non alta tensione, che però mettevano a dura prova questa realtà, ovvero di una società attrattiva in cui però le altre religioni, confessioni, all'interno dei limiti del monoteismo eccetera, venivano accettate e tollerate in uno stato di minorità. Quindi, per esempio, i culti cristiani ed ebree erano accettati, non si potevano però costruire nuove chiese, bisognava comunque accettare una serie di elementi distintivi, però era il riconoscimento di una parte di diritti in quello che era il modello della società medievale, non dimentichiamolo, quindi non parità di diritti assoluta. In questo quadro come si giustifica dal punto di vista del pensiero musulmano questa situazione. Qui entra in gioco quello che è un concetto, una parola, come dire, ben nota alle cronache giornali, ovvero il concetto di jihad, no? Jihad a volte reso oppure definito come una sorta di guerra santa, guerra offensiva eccetera, che già nel Corano è in realtà un termine di una pluralità di significati e che se guardiamo la prima storiografia islamica delle conquiste viene usato raramente, in realtà quando si parla delle prime grandi conquiste non si usa raramente il termine jihad. E in maniera quasi, come dire, curiosa e che induce la riflessione, la dottrina del jihad come, come dire, sforzo a difendere la comunità e quindi anche ad attaccare i nemici viene definita quando l'impero musulmano ha raggiunto confini in qualche modo stabili, non è la molla per le prime conquiste. Analizzando un po' come, dove e come vengono definiti questi concetti sembra quasi che il jihad serva, come dire, a definire la necessità della prima comunità musulmana di rivolgere, come dire, questi atteggiamenti verso l'esterno. Cioè viene definita quando i confini sono in qualche modo stabili e quando viene definito il grande concetto che definisce la divisione tra mondo islamico e mondo esterno e che è la definizione di Dara l'Islam, cioè la casa dell'Islam, il luogo non dove vivono tutti i musulmani, ma il luogo in cui l'autorità è musulmana e i musulmani hanno una posizione dominante, ovvero il mondo che oggi ha maggioranza musulmana, che va dal Marocco, Pakistan e poi dopo fino all'Indonesia e dall'altro il mondo esterno che viene definito Dara al Harba, casa della guerra, con un termine estremamente esemplificativo di un atteggiamento anche violento, ma definito così nel momento in cui in realtà i confini sono sostanzialmente stabili. Quindi il gioco, come dire, tra la crudezza della definizione teologica si sposa con una condizione diversa. Tale concetto permane nel tempo, attraversa stagioni diverse, in una realtà in cui il modello iniziale della società ecumenica che accetta una serie di pluralità religiose al proprio interno deve avvenire all'interno di un quadro di tolleranza eccetera. Balzo immediatamente, prima poi di proseguire con altre sollecitazioni, alla realtà contemporanea. Perché? Perché questo modello e questa realtà ideale che attraversa momenti di crisi? Quando ci sarà la riconquista spagnola vi saranno anche prime forme di quello che potremmo definire radicalismo con espulsioni di minoranze eccetera. Perché viene in qualche modo a cadere questo modello? Sicuramente, come dire, l'impatto con la modernità occidentale e il colonialismo altera una serie di equilibri. Quando soprattutto Francia e Germania, le potenze europee entrano in questi territori, in genere vanno a cooptare le minoranze cristiane ed ebraiche, quindi alterando quel presunto primato all'interno della società musulmana e dei musulmani. E poi, qui mi fermo per poi dopo vedere più nel dettaglio se servirà altre cose, i processi di re-islamizzazione e di, come dire, di utilizzo dell'islam in chiave politica come forma identitaria sempre più forte degli ultimi 50 anni sono quel fattore che di fatto sta rendendo le società islamiche sempre meno plurali e più coincidenti tra l'essere musulmano e il paese, come dire, il mondo musulmano. È un processo storico che continua, che genera una serie di problematiche che sono note a tutti, ma è un processo storico, recente, che non nasconde una serie di problemi anche passati, ma di una realtà passata diversa, ma che, come tutti i processi storici, per altri fattori potrebbe prendere direzioni diverse in futuro. Resta il fatto che oggi quella che era una società plurale, con un modello sicuramente di tolleranza medievale dagli altri, quindi non un luogo di pari diritti fra comunità, è essenzialmente avviato a forme di società sempre più omogenee abitate da musulmani e tra l'altro all'interno della compagine musulmana con anche una conflittualità tra i vari elementi minoritari e scismatici islamici, con una forte polarizzazione di confronto, ad esempio, tra paesi sunniti e paesi sciti, con, come dire, una tendenza all'omogenità che non appartiene storicamente al mondo islamico, ma che procede a passi, direi, molto veloci. Grazie, grazie davvero di questo grande affresco che è riuscita a tratteggiare in pochi minuti migliaia di anni di storia, collocando probabilmente delle nozioni che un po' a tutti sono familiari in un quadro molto chiaro. Mi sembra che i momenti che sono stati evocati come cruciali per non voglio dire la definizione della contemporaneità, perché è una contemporaneità non ben definita, ma per quello che oggi abbiamo sotto gli occhi, è stato evocato in apertura la seconda guerra mondiale con l'olocausto, ma poi anche un momento precedente di contatto in quadro con l'occidente, in quadro coloniale, che forse possiamo anche qui riassumere con lo sbocco della prima guerra mondiale e della dissoluzione dell'impero ottomano, che poi era la grande compagine imperiale che occupava i territori non solo quelli che stasera ci interessano, cioè quelli del vicino Oriente, ma anche il bacino del Mediterraneo, con l'eccezione del Marocco. Posso chiedere a Domenico Quirico una parere su questa ricostruzione, una anche correzione, aggiunta, un contributo. Facciamo un piccolo esempio che nasce dalla realtà. Mi allargo un po' rispetto alle progetti, ma forse perché io ho fatto il liceo classico, forse è l'unica ragione per cui mi avete invitato ad una cosa sul classico, quindi parto un po' da prima. Dunque, allora, io stavo nel 2013, stavo in un posto che si chiama Al-Qusseh, che sta nell'antilibano, Repubblica di Siria. È un posto magnifico, bellissimo, grandi frutteti, torrenti d'acqua, ma come raramente quei luoghi sono magnifici. Spesso nei luoghi magnifici la storia colloca i suoi massacri più completi. Allora, al Qusseh c'era una battaglia tremenda tra il regime siriano, Esbollah libanese, che era a fianco del regime siriano, e i cosiddetti ribelli siriani, la prima rivoluzione siriana. Trincee scavate in mezzo a questi meravigliosi frutteti. Se voi camminavate in queste trincee, camminavate su dei cocci di argilla. Se voi scavate con le mani, sempre più giù, trovate altri cocci d'argilla. Al Qusseh era la vecchia Kadesh, Kadesh sul Ronte. A Kadesh sul Ronte, l'impero egizio si scontrò con gli Ittiti. Ramsete II il Grande perse la battaglia, nonostante il suo valore personale, che impedì l'annientamento dell'esercito egiziano, e poi fece il primo esempio di bugia comunicativa della storia, perché sul suo grande monumento descrisse una battaglia che non c'era mai stata, cioè che lui aveva dominato e vinto, mentre non era così. Lì si fermò l'espansione dell'Egitto verso nord, in quella che attualmente è Palestina, che era terra egiziana, che non ritornarono mai più lì e poi ne vennero altre cose. Allora perché racconto questo? Racconto questo perché il vicino Oriente è una terra in cui la memoria è talmente stratificata da costituire un peso gigantesco. Cioè ogni passaggio storico è nato sulla distruzione del passaggio precedente. È come Troia, Iglio. Iglio ci sono non so quante stratificazioni. E ogni città nuova, ogni civiltà nuova, si è nutrita dell'annientamento di quella precedente. Questo fino ai giorni nostri, fino a Gaza, guerra. Ecco, è la distruzione che segna il passaggio delle civiltà. Perché dico questo? Dico questo perché il concetto su cui mi muoverei, che è un concetto politico, è il concetto di unità. Il vicino Oriente ha vissuto su una unità. Non risaliamo a Ciro il Grande, il primo che costruì un impero assorbendo tutta questa parte del mondo, distruggendo la nuova Babilonia, Nabonide. Tra l'altro questo Nabonide è un personaggio su cui forse vorrei scrivere un libro. Era un pacifista. Era andato in un'oasi della rabbia, lasciando il regno al figlio. E poi quando Ciro è arrivato con i suoi persiani, è tornato indietro giusto per assistere alla distruzione di Babilonia. No, distruzione no, perché Ciro non l'ha distrutto Babilonia. Allora, l'unità. Poi c'è stato Alessandro Magno, poi i regni ellenistici, poi Roma, che però non è mai riuscito a unificare tutta questa zona perché c'erano i parti, poi i sassani. Insomma, non voglio fare una lezione di storia. L'unità a cui mi riferisco è l'impero ottomano, erede dei califi che sono stati descritti così efficacemente dal professore. L'unità del mondo dell'islam. Allora, l'islam era la possibilità che aveva un musulmano di partire da Timbuktu per andare a fare il pellegrinaggio alla Mecca, attraversare tutto il Nord Africa, superare il Mar Rosso, Sine, e arrivare alla Mecca, lasciandosi dietro una scia d'oro, di polvere d'oro per pagare il suo passaggio e senza mai dover chiedere a nessuno la possibilità di passare. Quello era l'islam dei califi di cui gli ottomani erano gli eredi perché erano i califi del mondo musulmano. Quell'unità ha resistito senza problemi fino al Settecento. Allora, a Costantinopoli gli ottomani non avevano ambasciate in Europa, non sapevano che farsene. Era il mondo del nulla. Loro erano la civiltà. Erano gli altri che mandavano le ambasciate a Istanbul per chiedere al sultano la pace, pagare il tributo, fare degli affari, dividersi. Ma loro non avevano alcun bisogno. Le ambasciate hanno avuto relazioni diplomatiche con l'Europa, il regno delle tenebre, dopo la pace di Karlovic. Siamo nel Settecento, quando le continue sconfitte subite dall'impero ottomano li hanno costretti a rendersi conto che il mondo era più complicato di quello che fino a quel momento avevano retto. Allora l'impero ottomano è stato sbocconcellato a poco a poco nell'Ottocento e nel primo novecento fino al 1918 quando ha perso la guerra a fianco degli imperi centrali e le potenze democratiche dell'epoca, cioè la Francia e la Gran Bretagna, si sono spartiti quello che restava dell'impero ottomano che era sostanzialmente vicino oriente. perché l'Europa i Balcani se ne erano già andati, erano nati gli stati nazionali, in Egitto ci stava la Gran Bretagna che faceva gli affari suoi e il resto c'era Francia. Allora in quel momento c'è una frattura, c'è una frattura gigantesca perché nasce qualche cosa che prima non esisteva, cioè le frontiere, gli stati nazionali. Nessuno degli stati che attualmente stanno sul giornale tutti i giorni ha in me per ragioni non particolarmente positive è mai esistito. La Siria era una provincia romana ma in dimensioni totalmente diverse. L'Iraq non è mai esistito. La Giordania, Transgiordania come si chiamava inizialmente non è mai esistito. Israele se non si risale all'epoca di Tito e Vespasiano e la caduta del Terzo Tempio non è mai esistito. Le frontiere sono una costruzione delle potenze coloniali già sulla via del tramonto che si sono spartite amichevolmente il Vicino Oriente. Questo è il punto chiave. Questo è il punto chiave. Lo Stato-Nazione è arrivato lì sulla base di una imposizione. Se voi guardate i confini di questi paesi sono tirati con la matita perché Saez e Picot che erano due simpatici signori che a un certo punto hanno deciso di spartirsi in questa parte del mondo hanno preso il righello il compasso e hanno detto allora qui facciamo passare la Siria là ci mettiamo l'Iraq perché agli inglesi interessava il petrolio ai francesi interessava creare uno Stato per i cristiani il Libano che è stato inventato dai francesi per metterci i cristiani d'Oriente su cui la Francia voleva mantenere la sua la sua come dire tutela sottragliela che so la Russia diventata bolshevica eccetera eccetera quello è il punto chiave perché da quello è nato qualche cosa che ha cambiato la storia di quella parte del mondo è nato 2014 a Bubak al-Baldadi la magnifica moschiera di Mosul la proclamazione del ritorno al califato cioè la ricostruzione sanguinosa violenta e breve tentativo di ricostruzione di quell'unità allora c'è un prima del 2014 c'è un dopo 2014 questo è uno dei punti centrali della storia di questa zona del mondo certamente questo è un passaggio centrale perché è vero c'è quest'aspetto dell'intervento coloniale da parte delle potenze europee ma questa idea dello stato nazionale o comunque dello stato in senso moderno era qualcosa a cui anche l'impero ottomano si era già avvicinato con le costituzioni con l'idea dell'uguaglianza dei cittadini senza differenza di religione con l'idea della cittadinanza ottomana tutte cose che erano in un certo senso un adattamento una una ricerca della adozione di una forma politica ispirata all'Europa che poi ha avuto la sua come dire imposizione completa con gli stati nazioni perché l'impero ottomano comunque non era basato sull'idea di nazione su quella però aveva già preparato alcune idee come quella di sovranità di comunque certamente quello è il momento e molta volevo chiedere al professor Totoli se anche lui conviene con il fatto che questa idea dello stato nazione ha un ruolo fondamentale in questa decomplessificazione della popolazione perché l'idea che lo stato debba come ci ha detto Domenico Quirico essere avere una certa omogeneità della popolazione se è d'accordo sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Quirico recentemente soprattutto dopo le invasioni in Iraq e la gestione americana dell'Iraq e i problemi che ne sono sorti come dire la questione dell'esportazione della democrazia come dire ha ricevuto giudizi e analisi di vario tipo direi anche che l'esportazione come dire cooptata eccetera dell'idea di nazione che nasce in Europa in determinate condizioni e l'idea quindi di creare come è stato detto una serie di nazioni basate su convenienze di spartizione sicuramente è un fattore in tale direzione del resto non dimentichiamo che la polverizzazione e in qualche modo la distruzione di queste nazioni inventate e i casi più eclatanti sono la Libia la Siria e l'Iraq in questo macello che è il mondo arabo di oggi davanti a noi derivano dal fatto che è caduto come dire la mano forte tristemente ditatoriale di chi teneva in piedi come dire realtà fatte di mosaici estremamente complessi ha messo in luce la vacuità no? di assetti che quando come dire i paesi sono usciti dalla prima fase di decolonizzazione viveva ancora in qualche modo in una realtà in cui il messaggio islamista non aveva ancora preso piede in cui si mutuavano idee o l'illusorietà di idee di socialismi comunismi liberalismi all'occidentale che poi dopo in realtà dopo 10-15 anni sono falliti miseramente del resto come dire nelle nazioni quanto meno del mondo arabo nascevano in realtà molto diverse l'ideale come dire dell'omogenità del singolo stato di lingua eccetera già poneva un problema erano tutti i paesi arabofoni ed erano attraversati da richiami di panarabismo che poi come dire tramontavano nel giro di due anni in quelle illusorie unioni nazionali Siria Yemen Egitto che duravano due anni tre anni massimo perché poi una parte cercava di prendere il sopravvento la questione della lingua stessa crea mille problemi non sappiamo benissimo l'ideale dell'arabicità del corano i dialetti diversa senza uno status definitivo e che quindi impediscono in realtà una definizione di una nazione in quanto tale e poi nel vicino oriente in quelle stratificazioni di cui si parlava paesi in cui come la Siria e l'Iraq tra componenti etniche kurde sunnite scite scite minoritarie eccetera come dire i confini e per non parlare poi delle penso alle 21 chiese cristiane che stanno al santo sepolcro a Gerusalemme che sono sparse nei vari paesi ecco che come dire nel venire a mancare questa mano forte l'illusorietà di queste pseudo nazioni risulta più evidente sono il terreno di cultura di idee forti come l'unica idea dell'Islam come fattore identitario non sconfitto dalle altre idee fallite che dà forza in questa realtà mi pare che la criticità di questo passaggio sia ci trovi tutti d'accordo se cioè dell'insufficienza dello Stato Nazione come modalità per se possibile chiedo ai nostri due conferenzieri questa sera se ritengono che sia possibile un restaurare una forma di convivenza plurale in questa zona io penso a due personaggi molto diversi tra di loro che però parlano di e che sono Amin Malouf che è scrittore giornalista di origine levantina direi perché però naturalizzato francese che ha scritto adesso mi riferisco ha scritto tantissimo ma il naufragio delle civiltà da una parte e Avi Schleim che è professore merito di relazioni internazionali all'università di Oxford e che ha scritto una bellissima storia degli ebrei dell'Iraq e che entrambi iniziano queste loro opere dicendo che sono stati un po' resti a voler scrivere queste due opere perché pareva come dire fuori luogo parlare della loro esperienza personale ma che poi si sono convinti e tutti e due sono dei testimoni di questa modalità di convivenza che ancora negli anni appunto immediatamente dopo la seconda guerra mondiale esisteva e che loro personalmente portano come un ricordo e come una speranza che in futuro si possa riedificare ecco la mia domanda è nella vostra valutazione questa è una speranza possibile e soprattutto come potrebbe essere realizzata dal punto di vista della struttura politica appunto ma voglio essere sincero con lei la risposta è no no assolutamente no esiste alcuna possibilità cioè bisogna stare molto attento allora perché effettivamente in lungo termine perché entrambi dicono in lungo termine certo non in breve sono due persone illuminate e illuminanti ma l'errore più clamoroso che uno può commettere in questa parte del mondo andrà a prendere due intellettuali e chiedergli che cosa può succedere in quella parte del mondo quelli risponderanno ma certo siamo tutti figli di tutta della cultura dell'illuminismo della cosa per dire Amos Oz ha scritto un libro che racconta la storia della sua famiglia un libro molto bello e glielo mandò in prigione a Barguti Barguti è un tizio che è condannato a 27 ergastoli perché è stato uno dei di quelli che hanno commissionato tutta una serie di stragi delitti in Palestina non con Hamas ma prima di Hamas e pensava che questo adesso se ne parla come di un possibile come dire lo tirano fuori dalla prigione hanno messo cosa che non succedeva mai e lo mettono a capo dell'autorità nazionale palestinese al posto di quello scassato e sgangherato tizio che attualmente la dirige allora Barguti non ha mai letto quel libro l'ha preso l'ha buttato nel cestino allora se noi ci parliamo con gli intellettuali se lei va a Parigi sulla Rive Gauche trova la pace universale lei troverà gli algerini che adorano la Francia troverà i libanesi che sono estremamente illuministi troverà i libici che non vedono loro di fare la pace tra Benghazi e Tripoli quello non è il mondo reale signora il mondo reale nel vicino oriente è costruito sull'odio reciproco e sull'annientamento dell'altro non voglio parlare della Palestina perché mi dico ah vabbè la Palestina il 48 la guerra vabbè le parlo dell'Iraq mia figlia fa l'archeologa e lavora in Iraq ha lavorato prima nella parte sciita a Qut nel sud e poi ha lavorato a nord vicino a Baghdad tra sciiti e sunniti dell'Iraq si odiano più che i palestinesi con gli ebrei una minoranza che ha avuto il potere nel lungo periodo di Saddam Hussein gasificatore dei propri concittadini adesso grazie alla lungimiranza degli americani delle loro università di tutte le robe straordinarie che costruiscono hanno preso gli sciiti e gli hanno dato il potere dopo che loro sono scappati dall'Iraq il risultato è che l'Iraq è perennemente sulla soglia di una guerra civile lei può fare lo stesso discorso con la Siria dove il problema è ancora più complesso perché c'è una minoranza alawita secondo me gli alawiti non sono neanche neanche musulmani ma il padre di Bashar andò al Cairo alla famosa università e pagando si fece fare una dichiarazione secondo cui gli alawiti sono musulmani prendiamo che siano musulmani una minoranza che prima era i paria della società fino a quando non ci fu il colpo di stato del padre di Assad e poi sono diventati i padroni della Siria fino ad oggi perché hanno vinto la guerra la maggioranza è sunnita io non le racconto che cosa è successo nella guerra siriana perché lei poi non va a cena questa sera e non mangia più si sono massacrati come neanche nella Bibbia la Bibbia è un racconto terrorificante terrorificante lei ha presente i filistei dove sono andati a finire spariti va bene esattamente la stessa cosa il vicino oriente è costruito sull'odio reciproco non c'è alcuna possibilità di pacificazione non c'è non c'è non c'è lo sciolco dell'odio si è dilatato invece di ridursi ma se uno non parta dalla situazione reale dei luoghi e costruisce dei meravigliosi progetti di pacificazione universale non va avanti di un centimetro e semplicemente sulla constatazione della funzione omicida della memoria in quella parte del mondo e non solo in quella parte del mondo è possibile forse tentare a poco a poco lentamente dopo le generazioni tra ebrei e palestinesi dopo il 7 ottobre questo è totalmente impossibile spero di aver risposto in modo come dire definito no per fortuna in modo sfumato diciamo sì no 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 ma magari io userò toni meno vividi ma come dire non c'è alcun motivo di essere ottimista a breve a medio termine l'unica come dire l'unico motivo per cui si può sperare in qualcosa è l'unica cosa che l'Europa può insegnare nel senso che l'unità europea dopo i massacri dalle guerre mondiali ha mostrato che secoli di rivalità forse però la storia dell'Europa è diversa primo e là siamo veramente attenzione vi invito però a distinguere tra la realtà terribile del mondo arabo e il resto dei paesi musulmani la crisi devastante che pare oggi come dire ricucibile è quella di questi paesi arabi francamente quando uno passa da un confronto con colleghi e vede la cartina degli attentati degli ultimi dieci anni a Bagdad e non riconosce più una strada di Bagdad come si può pensare di costruire qualcosa in assenza di un ceto medio in fratture dilanianti che non hanno fatto altro che esplodere in una frammentazione costruita davvero sull'odio che poggia su rivendicazioni continue faccio l'unico accenno che io vedo come e lo dico anche in maniera provocatoria nel senso che uno dei mali come dire distruttivi delle comunità musulmane a mio modo di vedere cercando di lasciare un po' questa devastazione e questo cimitero continuo che è la storia del mondo arabo dall'altra parte del Mediterraneo è come si muovono Arabia Saudita e paesi del Golfo questi sono i paesi che tramite wahhabismo e salafismo hanno condizionato una deriva dell'islam tradizionalista che è devastante qualche movimento negli ultimi anni di facciata costruire le tre moschea ad Abu Dhabi eccetera una maggiore apertura nei costumi sembra finalmente indicare che come dire tirati probabilmente sicuramente per le orecchie dagli Stati Uniti che hanno finalmente capito che è stato alimentato una forma conflittuale di islam e la butto sul religioso che è la mia competenza forse qualcosa può presagire a qualche cambiamento però gli sciti alle porte hanno tutt'altre idee le forze sul campo nei vari paesi non vanno altro che avanti in una distruzione io francamente neppure un briciolo di ottimismo riesco a vedere a medio periodo e poi consentimi anche questi intellettuali che mai vivono nei paesi d'origine francamente anche a me insomma come dire e poi dopo magari all'ennesimo attentato a Parigi si chiedono come mai come mai come mai come mai probabilmente loro non hanno le risposte se non quello delle loro cattedre molto comode eccetera quindi sono ottimi propositi ma è vero che purtroppo rimangono chiusi all'interno dei confini europei direi ho svolto il mio compito di moderatrice in modo splendido comunque io sapendo sapendo di che cosa stiamo parlando ho detto che quando sono arrivati i musulmani gli ebrei in Iraq c'erano da 1200 anni quindi i tempi che ci vogliamo dare abbiamo anche Domenico Quirco ci ha raccontato di questa regione che è basata sulla distruzione però sulla rinascita cioè l'impero ottomano comunque era stato mi sembrava descritto in termini positivi una dimensione più impalavano la gente non è che impalavano però si poteva viaggiare si poteva viaggiare almeno Mansa Musa poteva viaggiare che aveva tanti soldi all'interno di quella di quella realtà sì sì poteva poteva viaggiare benissimo cioè quello che mi prima di dire forse per non diventare noioso e lungo non ho detto perché Isis Daesh chiamatelo come vi pare è andato a acchiappare la roba del califato del 600 dopo Cristo c'è uno dice vabbè ma scusa ma c'era qualcosa di più recente no è un'operazione che aveva una sua ha una sua capacità comunicativa all'interno di tutto il mondo dell'Islam non soltanto di quel particolare perché perché quella è l'età del loro per loro cioè l'epoca in cui la civiltà era l'Islam e noi avevamo dei tizi che vivevano chiusi nei conventi a copiare le opere romane senza capire cosa c'era scritto perché i monaci che copiarono non sapevano il latino e c'era un tizio che era tutto vestito di ferro con un cavallo che passava vicino uno divideva a metà senza che nessuno gli andasse a chiedere la ragione di questo era l'Europa l'Europa era la definizione secoli bui non la usiamo più perché è già stato storicamente dimostrato che non era proprio così però rispetto all'Islam delle grandi città il Cairo Baghdad Aleppo ma era era veramente veramente una parte incivile del mondo e loro anche economicamente erano la ricchezza erano la potenza militare la cavalleria araba se che poi non era araba ma era berbera quella che ha combattuto erano berberi quelli che sono stati sconfitti da Carlo Martello a Poitiers ed erano stati islamizzati con una rapidità incredibile ed erano diventate le avanguardie dell'avanzata dell'Islam allora se a Poitiers Carlo Martello sbagliava le operazioni militari a quest'ora a Parigi invece di Macron ci stava uno con il turbante questo l'ha detto non l'ho detto io allora attenzione per l'Islam quello è l'età del loro noi eravamo la civiltà del mondo invincibili ricchi colti con delle città meravigliose con una vita stupenda gli europei erano sporchi brutti cattivi puzzavano puzzavano perché nell'Europa medievale quella roba lì non si lavavano mai e l'Islam era la civiltà allora se uno gli propone in modo miracolistico chiamatelo come vi pare allora noi adesso riavvolgiamo il film della storia ci hanno umiliato e preso per calci nel sedere per secoli cioè dal settecento in avanti abbiamo perso tutte le guerre un ufficiale inglese con un frustino teneva in riga milioni di egiziani milioni di egiziani adesso riavvolgiamo il coro la forza siamo noi e ritorniamo a quell'età dell'oro cioè ricostruiamo quell'età dell'oro tutto questo è mitologico attenzione perché io ho avuto come dire sono vissuto con alcuni dei protagonisti di questa per cinque mesi insomma non è granché ma neanche meno che niente allora è già qualcosa allora io dicevo queste persone ma scusate ma voi come pensate di poter sconfiggere le porte americane l'Europa ma perché questa è la vostra idea del tempo la nostra idea del tempo è diversa noi non ci riusciremo non ci saranno i nostri figli non ci saranno i nostri nipoti ma tra cento anni duecento anni quel film lo riavvolgiamo e la storia torna dall'origine noi pensiamo al tempo sempre in proiezione presente e futuro cosa faccio domani dove vado tra un anno cosa riesco a diventare non è così in quella parte del mondo il professore forse non me lo può testimoniare in modo più attendibile di me è il passato che conta il passato che è meraviglioso è il passato che emoziona che scuota i cuori le anime le menti tornare lì quando eravamo i più potenti del mondo questa è la fascinazione orribile di questa storia è la stessa idea dei cinesi perché devono rito comunque no allora io volevo solo per passare per favorire il passaggio a un eventuale dialogo dire che comunque è vero gli storici arabi delle crociate dicono quanto puzzavano gli europei ma i bagni erano quelli romani o no? ah no quello sì quello sì quello sì è il cristianesimo ah no no quello sì quello sì indubbiamente dai